Via Libera allo scorporo dell'Istituto Comprensivo di Pietrasanta è quanto stabilito dal Consiglio Provinciale di Lucca che oggi ha approvato il piano provinciale dell'offerta formativa e del dimensionamento scolastico 2018-19. La provincia che una settimana fa in commissione aveva dato parere contrario adesso in virtù del disco verde della conferenza zonale della Versilia ha detto sì allo scorporo in due realtà indipendenti del comprensivo Pietrasantino, un super istituto che conta 18 plessi e oltre 1600 studenti. Una situazione sorta due anni fa dopo l'accorpamento voluto dall'ex amministrazione Mallegni per ottimizzare e rendere più efficiente il sistema scolastico cittadino. Un sistema che aveva però provocato la riduzione del numero dei collaboratori da 37 a 21, ricorsi continui a straordinari e disagi per l'apertura e la chiusura dei plessi. Esulta la dirigente scolastica Barbara Caterini che aveva chiesto lo scorporo appena insediata con il sostegno di 2000 firme raccolte e di tutto il mondo sindacale sceso in piazza a ottobre. Una vittoria del buonsenso secondo il partito democratico di Pietrasanta che aveva lanciato la battaglia politica. Adesso il provvedimento passa l'esame della regione mentre in consiglio provinciale Forza Italia ha annunciato che provvederà a fare ricorso cosa che secondo il PD è del tutto inconsistente.